Buonasera a tutti ragazzi del vostro PayGamer, oggi ne va a parlare tutta la partita persa per 3-0 contro l'Inter Supercoppa Italiana, prima di andare a parlare tutto sul dettaglio vi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciate un like e attivate la campagna per stagione sui miei contenuti Allora ragazzi parliamo veramente con una grande sincerità per questo match, ho visto veramente una grande vergogna in quanto riguarda il Milan Non ha proprio giocato, siamo seri, non ha proprio giocato questa Supercoppa, non ci sta mai in campo Una squadra veramente fantasma, una squadra che non ha provato, non ha reagito, non ci sta neanche una reazione Si vedeva soprattutto nelle facce dei giocatori che non ce l'ha verso Situazione veramente brutta, soprattutto per noi tifosi rossoneri che passiamo, tifiamo e supportiamo questa squadra Giorno dopo giorno, partita dopo partita, una squadra che scorso anno giocava veramente un bel calcio Una grande difesa, ora veramente in difesa inguardabile, un certo Tomori, Calulo, Kiar, eccetera eccetera In guardabili ragazzi, centrocampo contro una Eben Nasser che si sono veramente, si sono fatti naturalizzare dai giocatori dell'Inter Un Inter veramente giocato una bella partita, complimenti su tutti i nostri cugini, un derby veramente perso senza nemmeno scendere in campo Veramente una vergogna, Pioli deve trovare assolutamente una soluzione perché di fare questa squadra e continuare fino a fine stagione In questo modo veramente brutta da sopportare per noi tifosi Dobbiamo andare avanti, non pensare più a questa partita, voltare pagina Ma contro Lazio voglio veramente un Milan diverso Voglio veramente un Milan dove veramente ci crede Mette veramente le proprie qualità in campo Reagisce, gioca al pallone E non un Milan fantasma come stasera Abbiamo giocato veramente di merda Merda veramente Vergogna Si dobbiamo fare veramente un esame di coscienza Bisogna veramente fare un esame di coscienza di tutti questi giocatori che si sono fatti rinnovare il contratto Hanno rinnovato e non abbiamo visto più le qualità in campo Ora si aspetta l'ultimo rinnovo in quanto riguarda Leao Leao 7 milioni di ingaggio E gioca con le prestazioni del genere Non c'è stato neanche in campo Non c'è stato neanche in campo Palloni veramente mandati in aria di rigore Senza concretizzare Palloni veramente brutti mandati in aria di rigore Tiri da fuori Non si riuscì neanche a entrare in aria Un Inter veramente aggressivo Che 3-4 giocatori sopra l'uomo Tiravano pallo Non ti facevano respirare Milano veramente è partito male i primi minuti del primo tempo Si è fatto dubbio di tutto Due gol dall'Inter Gol veramente scantorosi Presti in contropiede Uno in contropiede Dove la difesa è veramente posizionata male Difesa è veramente posizionata male Tataruzano inguardabile Ragazzi io vi prego Togliete quel giocatore su tutto dal campo Togliete quel portiere su tutto dalla porta Cercate qualche portiere Vi serve il portiere Magnan Infortunato Ancora problemi Magnan in questa stagione secondo me Lo vedremo su tutto a fine stagione Bisogna prendere in questo calciomercato Invernale qualche portiere Perché così il Milan non può andare avanti Così veramente non c'è comunicazione in difesa Veramente brutta difesa In attacco non può utilizzare Niente Azioni Sopra azioni Palloni gettati in aria Milan veramente confusionale Milan è sceso in campo Non c'è nessuna idea Nessuna fantasia Oggi visto veramente un Milan veramente spaisato Un Milan veramente Che si vedeva in passato Prima nella vittoria dello Scudetto Senza gioco Con tanti errori Giocatori che cercano il rinnovo Vogliono tutto L'aumento Tutto nel contratto Rinnovi Di qua Di là Temporeggiano E poi in campo non dimostrano nulla Un turn hand Si riconoscibile Un layout che prova Le reazioni personali Non dialogo con i giocatori Milan è veramente inguardabile Ne soffro veramente come tifoso rosso nero Voglio veramente una reazione contro la Lazio E voglio vedere un Milan diverso Perché così avanti non si può Giocatori che veramente Vanno a giocare una finale di Supercoppa italiana E non mettono neanche La voglia in campo La voglia in campo Così Mettono veramente tutti Allo stesso livello Tutti hanno sbagliato Tutti devono rimediare Non si salva nessuno stasera Stasera non si salva nessuno Pagella è veramente bruttissima Specialmente di Portiere Portiere è veramente Zero come Pagella Perché è inguardabile Che Portiere Quello Portiere è un bastone in legno È inguardabile Bisogna veramente rimediare Bisogna veramente cercare Una soluzione per questo Milan Perché Così Non si va a nessuna parte Così veramente Non si va a nessuna parte Quindi ragazzi Sempre forza Milan Vuoi una soluzione Un rimedio Una reazione Contro la Lazio E voglio veramente Rivedere il Milan Che ho visto l'anno scorso In quel Milan Che veramente C'era una calcata di Hernández C'era una difesa veramente compatta Milan che subiva meno gol Concretizzava di più Un giurio veramente Unico da vedere Ora è ricevuto il rinnovo Questa partita Neanche si è visto Giuru Leao Inguardabili Tonali Spagliato qualsiasi Qualsiasi pallone Ben Nasser Affaticato Poi c'è Tomori Caluro Calabria Che si Lascia andare L'uomo Non lo controlla Aggressività zero Nessun possesso palla Abbiamo regalato Un trofeo Praticamente A nostri cugini Oggi Noi abbiamo regalato Un trofeo Oggi Noi abbiamo regalato Un trofeo Abbiamo regalato Una qualificazione Abbiamo regalato Una mezza dei punti In campionato Infatti Siamo a meno Nove dal Napoli Brutta stagione Non c'è niente Da prendere Non c'è niente Da salvare Potete solo Rimediare Con le prossime partite Potete solo Rimediare in campionato E magari mettere Qualche impegno Anche in Champions League Ma non c'è niente Da rimediare E bisogna Avere Soprattutto Qualche rinforzo In questo Calma C'è il mercato Invernale Che così Ragazzi Così non si va Da nessuna parte Così veramente Non si va Da nessuna parte Se volete Dimostrare Di essere Campione di Italia In carica Dovete dare una scossa A campionato Dovete dare una scossa Tutto in Champions League Perché così Col Tottenham Ne prendete Minimo 4 Continuando così Col Tottenham Ne prendete Minimo 4 E in campionato La Lazio Che ora È in cerca Di punti Non lo so Come andrà a finire Fate sapere Se i commenti Ma da tifoso Rosso-nero Da tifoso Realista Sportivo È una squadra Inguardabile Una squadra Che deve svegliarsi Così non si può andare Da nessuna parte Così Tu vuoi rinnovi I giocatori Vogliono rinnovi Leao vuole rinnovi Ma 7 milioni Ma tu ci vale Leao 7 milioni Un rinnovo 7 milioni Una stagione In modo Comunque Ci vediamo alla prossima Ragazzi Bella ragazzi Sempre forza mia